In questo modo ha interessato un'altra zona e quindi ha dato fuoco, però è soltanto uno scomparto, sono intervenuti subito i problemi, sembra che non ce ne siano. Adesso comunque sono stati avvisati tutti, li ho avvisati io i carabinicosi, i pompieri, quindi adesso arriva l'ARPAV, arrivano tutti, però al momento problemi sembrano che non ce ne siano.